ben trovate tutti voi amici di le fonti tv con questo nuovo appuntamento di no haver è il nostro format che ogni mese fa il punto sulla formazione tutte le voci della formazione declinando l'argomento in maniera assolutamente diversa cercando di rimanere anche su quelli che sono i temi più dibattuti per restare insomma sull'attualità e allora possiamo leggere insieme il titolo di questa puntata che è molto accattivante perché verrà declinato in maniera diversa ma insomma non voglio anticipare più di tanto talenti diversi diversi talenti confronto tra azienda e arte per riconoscerli e valorizzarli io do il benvenuto a mano eliminati amministratore unico rebis buongiorno la collaborazione tra le fonti tv e rebis ormai insomma è cosa nota esatto manuel che c'entra allora il talento da una parte ma che c'entrano l'azienda e l'arte guarda è stata una scoperta anche per me perché ho incrociato le la fortissima metafora che l'arte rappresenta anche per il mondo aziendale sia dal punto di vista dell'ambiente in cui un talento e una diversità possono essere valorizzati e delle competenze necessarie quindi sono convinto che nella puntata di oggi daremo qualche stimolo interessante di ragionamento ulteriore e noi guarda faremo proprio vedere come in realtà l'arte pensando all'arte di una volta soprattutto e l'azienda abbiano molti più punti in comune rispetto a quello che si immagina e porteremo proprio degli esempi di grandi artisti sarà una scoperta vero infatti vedo che vuoi guarda io sono fremo dalla voglia di vedere la puntata assolutamente poi non dobbiamo anticipare nulla di più perché adesso diamo il via al nostro dibattito al nostro dialogo e adesso finalmente possiamo entrare nel merito di questo dibattito e ci sono davvero tantissime cose da dire a partire dalla parola talento io saluto e ringrazio intanto a partire dallo studio Maria De Giorgio storica dell'arte Maria grazie per essere qui e benvenuta grazie a voi e in allora talento tanti sinonimi si possono accompagnare alla parola talento abilità innata nel fare qualcosa dote capacità attitudine inclinazione potremmo stare ore a definire che cos'è il talento sicuramente talento e diversità sono i due ambiti in cui ci vogliamo muovere in questo dibattito ti posso chiedere subito Maria come inserisci il discorso del talento nell'arte perché è facile no quando si parla di arte bravura associarla al talento ma in che modo assolutamente sì in genere quando si parla di arte si pensa immediatamente a talenti innati no è quasi come se gli artisti non abbiano dovuto camminare studiare avere dei bravi e degli abili maestri per arrivare in realtà ad affinare il loro talento ed è come se gli artisti avessero avuto sempre un pochino la strada spianata impareremo in realtà durante questa questo speech questo incontro a comprendere quanto il talento non basti solo a se stesso ma vi sia bisogno di una via di sempre bisogno di una guida affinché questo possa emergere nelle modalità migliori questa è una cosa molto interessante in realtà è la prima cosa che effettivamente doveva essere messa sul tavolo perché quando si pensa di essere bravi in qualcosa e magari è anche vero si pensa che non ci sia bisogno più di allenamento no come dire vabbè sono portata a fare una certa attività un certo lavoro un certo mestiere quindi basta e avanza e a questo punto mi ricollego a questo tema anche con Loretta spesso te lo pongo come domanda Loretta non è detto che sia così è l'errore che si fa anche a livello aziendale cioè quello di cercare una persona che possa ricoprire un ruolo si trova questa persona che risponde alle caratteristiche che l'azienda cerca e basta il lavoro è fatto si parte da questo presupposto sbagliando a volte sì a volte capita specialmente quando si ha la fortuna di incontrare subito persone che sono immediatamente in grado no di portare valori in azienda ma il talento in azienda assume tanti significati quindi è interessante investigarli è sicuramente legato a un concetto di allenamento no di continuo allenamento di necessità di sviluppare competenze nel percorso anche che le persone fanno all'interno dell'azienda infatti di talento si parla rispetto ai giovani che hanno potenziale no da tradurre poi in competenze si parla con riferimento a persone più esperte che diventano quindi magari persone di riferimento le key people all'interno dell'organizzazione e se ne parla in termini di anche top performance cioè coloro che contribuiscono in modo più significativo ai risultati aziendali quindi i significati e il valore di questa parola sono molteplici assolutamente bisogna trovare anzi cercare il talento trovarlo e poi valorizzarlo ed è il prossimo passaggio che facciamo peraltro maria torno da te perché adesso cominceremo anche da questo punto di vista entrare nel merito associeremo a tre macro temi tre ambiti di discussione di questo dibattito tre volti noti dell'arte assoluto non solo volti ma insomma però noi vedremo delle fotografie così capiremo subito il perché allora il primo macro tema è proprio la diversità legata al talento cioè ciascuno è diverso no quando si parla di quello che possiamo e vogliamo fare e il tassello in più mancante la valorizzazione di questo talento c'è un grandissimo maestro io lo definisco così non so neanche come definire un genio e sì il genio il genio la parola giusta che lo diciamo subito leonardo da vinci nessuno potrebbe discutere sul suo talento appunto ripetiamo questa parola oggi la ripeteremo più volte però insomma saremo perdonati non è una ripetizione in questo caso eccolo qui non ci sarebbe neanche bisogno di mostrarlo leonardo da vinci però mi chiedo secondo te a prescindere sarebbe stato valorizzato cioè il suo talento sarebbe bastato o invece anche lui ha avuto bisogno o avrebbe bisogno idealmente pensiamo di averlo ancora qui con noi leonardo da vinci di essere valorizzato allora ha avuto bisogno di essere valorizzato sicuramente in maniera indubbia leonardo da vinci aveva delle caratteristiche aveva delle peculiarità ma ha avuto nella prima fase di formazione in quella giovanile quando ancora oggi noi lo considereremo un adolescente un buon maestro e quel buon maestro è stato il verrocchio leonardo da vinci andrà all'interno della bottega del verrocchio vorrei che le persone memorizzassero la parola bottega la bottega era al pari dell'azienda attuale quindi si accedeva all'interno di una bottega per apprendere un mestiere e questo maestro fu importantissimo per leonardo da vinci perché era una persona poliedrica e andrà per cui ad incentivare tutti gli elementi legati alla curiosità e alla tecnica che in maniera preponderante poi leonardo da vinci lungo l'arco della sua vita riuscirà a portare in campo altro tassello importante il talento è fine a se stesso no bisogna avere il giusto humus da qui il rinascimento per l'italia è stata un'epoca importantissima perché perché si facevano investimenti si facevano investimenti sull'arte e gli artisti erano in realtà dei lavoratori e leonardo da vinci fa una scelta sceglie la città più idonea per la sua crescita professionale e quella città era milano nel 1482 leonardo da vinci arriva alla corte di ludovico il moro e ludovico il moro era il suo datore di lavoro era colui che in realtà diede a leonardo da vinci del lavoro da svolgere ma leonardo era particolare aveva una caratterialità particolare era molto lento perché era molto curioso si perdeva quando realizzava le sue composizioni ludovico il moro riuscirà anche ad accettare questo aspetto caratteriale di leonardo da vinci perché si rese conto di essere di fronte ad un soggetto che aveva del giusto talento guarda è subito insomma devo devo andare da loretta perché tu mi hai dato degli spunti incredibili sarebbero tantissime io ne prendo due in particolar modo questa doppia valenza di riconoscere il talento noi dobbiamo saper riconoscere il nostro talento ma non accontentarci di riconoscerlo ma studiare e lavorarci su perché lo hai detto tu se leonardo da vinci non fosse andato nella bottega del verrocchio sarebbe rimasto comunque talentuoso ma non l'avrebbe sviluppato lui per primo no ha sentito il bisogno giustamente di approfondire il suo talento di allenarlo è una parola che si può associare al talento però e qui appunto chiedo l'aiuto di loretta anche la stessa verrocchio la stessa bottega leonardo anche Ludovico il moro esatto hanno saputo riconoscere anche le debolezze di leonardo da vinci e non lasciar perdere dire ma forse non è il caso no potenziarle prendendole come unicità questa è un'altra parola la stessa cosa deve fare l'azienda lavoratore azienda loretta entrambi naturalmente per questo parlavo della doppia valenza sì io posso contribuire dicendo che tante aziende le grandi aziende lavorano con dei programmi espliciti sulla gestione e lo sviluppo dei talenti questo è un primo passo fondamentale per decidere di avere un'attività no dei programmi dei formati rivolte ai talenti c'è il tema anche appunto del concetto di talento fatto diciamo da una composizione di competenza a volte possono essere anche aspetti che magari richiedono un allenamento no aggiuntivo perché magari le persone possono emergere in alcuni aspetti ma dover come dire rinforzarne altri quindi questo aspetto dell'allenamento del lavorare su aspetti anche diciamo complementari che possono rappresentare delle debolezze fondamentale infine il contesto no la bottega l'avere dei maestri o figure che ti supportano è secondo me un esempio è come dire un collegamento al mondo aziendale eccezionale perché creare degli ambienti ricchi di opportunità di formazione di apprendimento siano momenti diciamo espliciti di formazione formale o momenti sul campo opportunità di innovazione stanno diventando davvero le vere sfide per per l'organizzazione per creare contesti dove ci sia anche una certa diciamo personalizzazione del percorso perché i talenti hanno caratteristiche diverse possono avere esigenze anche molto diverse assolutamente sì si potrebbe dire che il verrocchio visto che è stato il primo maestro è il leader contemporaneo cioè noi parliamo di aziende di leader che guidano dei gruppi no adesso sto improvvisando però chiedo a voi e lui ha fatto sì da maestro da guida però è colui anche che è riuscito a tirar fuori le potenzialità reali di Leonardo da Vinci quindi è un po' una sorta di leader è stato una sorta di leader anche perché all'interno delle antiche botteghe rinascimentali come quella della verrocchio che aveva possedeva una delle botteghe più importanti nella Firenze del tempo si lavorava concretamente per cui questi ragazzi non erano la bassa mano d'opera ma in realtà facevano dei lavori importanti affinché il risultato fosse pregno di risultato importante significativo agli occhi dei committenti per cui dovevano lavorare e venivano spronati dal verrocchio affinché potessero acquisire tutte le nobili conseguenze e competenze di questo lavoro visto che il sottotitolo della trasmissione noabere tutte le voci della formazione lui è stato il vero formatore iniziale poi chiaramente la formazione come accade oggi avviene a più livelli quindi poi ci sono diversi incontri eccetera quindi insomma loretta ha un altro punto fondamentale anche in azienda bisogna far sì che le persone talentuose siano accompagnate da persone che possano eh tirar fuori tutte le potenzialità questo è fondamentale perché se si lavora in un gruppo dove non c'è il giusto amalgama si ottiene non dico la metà del del dell'effetto ma quasi eh sì eh diciamo che si sta sviluppando seguendo questo concetto anche proprio un concetto di talento legato al team no legato al fatto di sapere in gruppo perseguire sfide e obiettivi diciamo sempre crescenti perché se la complessità l'innovazione l'evoluzione tecnologica che ci caratterizza pone di fronte diciamo alle aziende sempre più obiettivi no con un approccio eh interdisciplinare con l'esigenza di abbinare diversi campi della conoscenza insieme quindi il team sarà la nuova frontiera in grado di esprimere un talento che è caratterizzato da singoli talenti complementari e che portano diciamo all'azienda delle delle opportunità nuove e elaborano nuovi risultati certamente allora altra parola che vogliamo abbinare a talento e diversità lo abbiamo già fatto prima però mi riaggancio anche a un aspetto della vita di Leonardo da Vinci che tu hai citato poco fa cioè che era lento no si nella nel suo operato che però eh ci sono state persone che hanno saputo potenziare anche questa sua caratteristica che è presa di per sé una penalità e l'hanno trasformata in ricchezza ecco ho fatto tutto questo giro di parole per dire che la diversità è fondamentale quando si deve riconoscere un talento il secondo personaggio che vogliamo mostrarvi e vediamo subito la fotografia è Frida Kahlo anche qui insomma immagini iconica Frida Kahlo è un'icona di arti al femminile esattamente perché eh abbiamo voluto lascio raccontare a te abbiamo voluto eh prendere come esempio Frida Kahlo per fare questo passo in più cioè parlare della diversità perché Frida Kahlo è un esempio importante innanzitutto di resilienza per cui Frida Kahlo parla all'individuo e parla al datore di lavoro eh parla alla molteplicità e parla a se stessa lei rimase coinvolta in un tragico incidente quando aveva soltanto 18 anni quell'avvenimento all'interno della sua vita cambierà totalmente la struttura della sua essenza fisica e logicamente anche mentale e fu il padre in realtà darle il primo assist lei dovette stare allettata per tantissimi mesi subirà tantissimi interventi e questo padre le darà gli strumenti necessari per cercare di distrarla dal dolore e quindi quegli strumenti erano pennelli e tele per iniziare a dipingere da una realtà portata in campo per cercare di eliminare il proprio dolore Frida Kahlo ha deciso di cambiare la rotta quindi ci insegna una cosa importante nel momento in cui vivo una sfida che è una sfida dove mi viene richiesta resilienza e forza devo essere capace di cambiare il mio obiettivo, i miei piani, i miei programmi Frida Kahlo lo fa diventando una grande protagonista dell'arte del novecento nonostante un corpo assolutamente martoriato e quindi ci insegna un'altra cosa talento non deve per forza far andare di parallelo con la perfezione ma può essere anche un po' l'imperfezione a darci quella spinta per farci riconoscere all'interno di un luogo specifico che può essere quello dell'azienda o che può essere nel caso di Frida Kahlo gli occhi di grandi artisti del passato che si sono rivolti verso di lei Breton e Salvador Dalì hanno attestato Frida Kahlo come artista talentuosa altro elemento secondo me importantissimo che Frida Kahlo porta in campo è la condivisione del proprio passato non bisogna avere timore, vergogna di raccontare anche le cadute della nostra vita perché quelle cadute possono in realtà essere ai fini poi lavorativi un bagaglio importante, un bagaglio di cambiamento, di sguardo di superare quelli che sono i limiti, di superare quelle che sono le difficoltà sulla base dello sviluppo anche di un progetto noi tendiamo sempre a fare le cose sperando di essere perfetti facendo credere agli altri di essere perfetti questo avviene soprattutto in tempi contemporanei dove attraverso anche i tempi non c'erano queste cose però stiamo facendo proprio un salto tra due epoche assolutamente diverse oggi attraverso i social, è tutto patinato, le foto perfette abbiamo anche la possibilità tecnologica di fare delle cose che ci fanno risultare diversi però rincorriamo proprio quel mito invece l'esempio che tu hai portato ci fa andare completamente in un'altra direzione questo succede anche nel lavoro adesso vado da Loretta per questo mi piace questa doppia valenza lo abbiamo detto più volte cioè la diversità rappresenta a tuo parere Loretta è una delle sfide più importanti a livello aziendale oggi? Sì, per me è una sfida interessantissima ed è una sfida rispetto alla quale le aziende sapranno distinguersi io la vedo declinata sotto due punti di vista la prima è la diversità legata al tema dell'innovazione cioè sempre più le aziende più innovative saranno le più diciamo probabilmente le più interessanti le più capaci di affermarsi sul mercato l'innovazione perché ha a che fare con la diversità? perché implica lo sviluppo di un pensiero laterale di un pensare in modo diverso rispetto allo status quo e implica il connettere punti che tra loro sembrano non connessi quindi implica l'esporsi a discipline, situazioni, contesti diversi e metterli in collegamento per cercare di pensare nel proprio contesto quel tipo di ricchezza che cosa può portare ma la diversità la vedo anche legata alle sfide della sostenibilità delle aziende delle aziende parlano molto ma stanno iniziando ad agire ora sulla diversità che può essere diversità di genere, di età, di cultura, di abilità e questo ha a che fare anche con l'imperfezione perché significa lavorare in contesti, in situazioni in cui non c'è un modello dato ma ci sono tante situazioni, tanti portatori di competenze che operano e lavorano insieme e apprendono anche dalle diversità degli altri un modo diverso di contribuire nell'organizzazione io credo che su questi temi le aziende lavoreranno molto nel futuro e dimostreranno un po' le loro unicità e diversità questo è molto importante e molto bello anche perché anche qui in senso molto banale, superficiale quando parliamo di diversità si discrimina a volte e allora tu sei diverso da me quindi non ho niente a che vedere con te ma no, dipende anche lì, ci mancherebbe ci sono anche delle situazioni di incompatibilità ma quello è un altro discorso ma non necessariamente, anzi avviene proprio il contrario almeno ce l'ha detto adesso Loretta ma vedo che anche tu sei d'accordo è proprio la diversità che a volte dà quel qualcosa in più sì, anche perché ad esempio nel caso di Frida Kahlo è stata la diversità e il fatto di aver affrontato determinate tematiche personali ad aver dato la possibilità a questa donna di esprimere in maniera assolutamente innovativa un mondo che prima non esisteva nella storia dell'arte per cui porta in scena tutta una serie di iconografie assolutamente nuove e questo la renderà importante agli occhi di quegli artisti che avevano già avviato un determinato tipo di linguaggio per cui sì, assolutamente ultimo aspetto, non meno importante anzi forse quello anche più importante nel discorso che stiamo facendo perché non è sempre tutto rosa e fiore allora noi non vogliamo solo mettere sul tavolo gli aspetti positivi ma anche un fallimento ecco questa è la parola chiave legata al talento perché spesso accade accade a degli artisti magari talentuosi adesso lascio dire a te chi è il terzo artista che vogliamo portare come esempio accade che anche laddove ci sia talento succeda qualcosa che lo faccia sprofondare e che lo annienti se non annienti quasi chi è il protagonista di questa terza parte? il ragazzo che si trova all'interno di questa immagine è il famoso Jean-Michel Basquiat lui è divenuto uno dei grandi protagonisti della street art americana un pupillo del famoso Andy Warhol un ragazzo che però aveva un temperamento particolare che aveva tantissime fragilità e che non scese mai a patti con il colore della sua pelle lui pensava che quel colore fosse una sorta di gabbia in una nazione, quella degli Stati Uniti d'America incapace di accettare una pelle diversa e allora inizierà a camminare nel mondo della street art divenendo in realtà un writer perché aveva necessità di attestare la sua presenza nel mondo immediatamente gli occhi dei galleristi del tempo vennero poggiati su questo giovane e il successo però che Jean-Michel Basquiat vivrà nel giro veramente di pochissimi anni lo porterà ad un abbattimento notevole e Jean-Michel Basquiat ci insegna una cosa importante il talento non solo va coltivato ma va anche curato le aziende devono comprendere quelle che sono le necessità di un giovane soprattutto talentuoso ed accompagnarlo lungo questo tipo di percorso perché altrimenti delle fragilità emotive quali ad esempio Basquiat aveva si andranno a ritorcere contro certo quindi accompagnato e sorretto proprio aiutatola dove non riesca da solo perché ci mancherà perché siamo tutti umani magari ce la facciassimo sempre da soli questo è ancora l'importanza del team siamo quasi in conclusione ma io ruberei ancora un minutino perché è importante capire l'oretta quando le aziende falliscono cioè quali sono i motivi principali per cui a volte le aziende falliscono nel riconoscere e nel valorizzare un talento allora secondo me un primo fallimento sia quando c'è una sorta di non utilizzo non come dire valorizzazione del potenziale presente in azienda capita spesso che magari ci siano persone che rimangano a gestire attività molto rutinare che non ci siano diciamo stimoli equamente distribuiti quindi è importante che l'azienda mantenga un atteggiamento io lo definirei esplorativo verso le potenzialità delle persone per garantire la possibilità che tutti abbiano sfide di cambiamento di diciamo miglioramento di crescita e questo è fondamentale per non avere una parte dell'organizzazione che rimane un po' su una situazione di continuità con quello che si è appreso che dopo anni può diventare anche resistenza al cambiamento il fallimento più grosso si ha quando i talenti le persone su cui si è investito tanto lasciano l'azienda e questo è un aspetto fondamentale quello del turnover da curare da capire quindi analizzare anche attraverso dati e fare diciamo tutte le analisi necessarie per poi prevenire queste uscite perché è la perda di un talento per l'azienda è la perda di un grandissimo investimento e di una possibilità per il futuro quindi questi sono i due aspetti io direi da monitorare per evitare questo tipo di problema assolutamente anche questo è una cosa fondamentale perché a volte si pensa di spendere meno magari prendendo persone a rotazione invece no perché bisogna ripartire un po' sempre da capo c'è un discorso di corresponsabilità questo avveniva nel mondo dell'arte che poi il mondo dell'arte detto così è molto ampio e avviene oggi nel mondo più terra terra delle aziende del lavoro di tutti i giorni no Maria? assolutamente sì nel caso ad esempio dello stesso Baschià di cui stavamo parlando prima questa imperanza da parte di alcuni soggetti a porre lo sguardo su di lui senza rispettare quella che era la sua creatività quella che era la sua dimensione personale lo porterà come diceva Loretta per l'ambito dell'azienda a spostarsi da un gallerista all'altro perché non trovava la sua giusta dimensione perché si sentiva schiacciato da quelle che erano richieste e non ben ponderate che arrivavano lui altro tema secondo me importante era la cura per cui del talento e soprattutto la capacità di condurre questi giovani soprattutto quando si parla di un patrimonio giovane da dover formare visto che parliamo sempre di formazione in questa trasmissione non si può prescindere da questo dal saper riconoscere il vero talento e valorizzarlo insomma del resto si dice che il talento deve sempre incontrare l'opportunità e per opportunità intendiamo persone luoghi ambienti condizioni favorevoli che però non dipendono purtroppo solo da noi ripeto magari potessimo fare tutto da soli grazie Maria De Giorgio grazie per essere stata con noi grazie a Loretta Chiusoli naturalmente per l'apporto e per questi due aspetti importantissimi adesso sono curiosa ascoltate anche voi di andare ancora di tornare ancora da Manuel Minati per le conclusioni ed eccolo tornato Manuel Minati eccoci un dialogo molto interessante ma io non ti dico niente perché sono curiosa di sapere cosa ne pensi tu insomma tiriamo un po' le somme ma guarda ti dico io sono convinto che avremmo avuto bisogno di tre ore per entrare solo nella superficie di quelli che sono tutti i collegamenti che abbiamo visto e a questo scopo suggerisco di andare a vedere sulla nostra pagina del gruppo No Habber di LinkedIn quelli che saranno gli ulteriori stimoli che potremo dare su questo tema credo che oggi talento e diversità siano qualcosa che devono essere nei piani di ogni azienda e avere un punto di vista come quello dell'arte che ci aiuta a avere un punto di vista diverso può essere vincente e mi auguro che sia stato interessante anche per te Sì assolutamente sì anche perché il discorso del talento se non si approfondisce rischia di rimanere un po' nebuloso di essere un qualcosa di astratto che poi non porta a nulla invece in realtà abbiamo cercato di dimostrare poi come hai detto tu servirebbero altre diecimila puntate ma non è detto che non le faremo per invece spiegare che è molto concreto cioè anche a me ha stupito per la concretezza assolutamente per la piega concreta che ha preso questo discorso è la cosa che stupisce quasi tutti e poi io sono affascinata dal talento indipendentemente da come si declina però con il riconoscimento del talento perché poi sennò come abbiamo capito che se resta a sé stante non dice niente e se vuoi anche dal fatto che ogni talento è diverso eh sì assolutamente sì va bene il tuo qual è? lo diciamo la prossima puntata? sì lo teniamo per la prossima puntata allora prossima puntata naturalmente sempre sulle fonti tv il prossimo mese con Noaber ma comunque per rimanere sempre informate al di là dei nostri canali c'è la pagina LinkedIn e mi raccomando usate l'hashtag Noaber e partecipate alle discussioni del gruppo perché è fondamentale ogni tanto mi inserisco anch'io va bene? ti aspettiamo così parleremo di talento e non solo grazie Manuel Minato e la prossima puntata sempre qui sulle fonti tv e grazie a tutti voi per averci seguiti naturalmente